Sarebbe una presunta relazione sentimentale il movente che nel marzo 2016 ha portato al danneggiamento di un esercizio commerciale contro la cui vetrina sono stati esplosi due colpi di arma da fuoco. Quelle sera due individui a bordo di un motorino con il volto travisati erano stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona interessata. Il motorino si ferma, il passeggero scende dal mezzo, spara, risale al bordo e si dà alla fuga. Le immagini non permettono di risalire alla targa né di identificare gli autori. L'attività di indagine condotta dalla squadra mobile della Questura, coordinata dalla procura di Messina, però non si ferma e porta ad escludere la riconducibilità del gesto all'attività professionale della vittima. Gli accertamenti balistici sui bossoli sequestrati permettono però di individuare il tipo di arma verosimilmente usata che coincide con un altro uguale, sequestrata dagli stessi poliziotti in una precedente operazione conclusa con l'arresto di più soggetti. E lì la svolta. Uno di questi infatti decide di collaborare. E' lui l'autore materiale del delitto, ordinato gli da Rosario Mazza, 63 anni, dietro il compenso di 2.000 euro. Mandante dell'azione punitiva, invece, Rosario Pistone, 47 anni, a guidare il motorino Giuseppe Riggio, 52 anni, tutti messinesi. A riscontrare le dichiarazioni in rese, la conoscenza tra il collaboratore e Mazza, appartenenti allo stesso gruppo criminale, è dedito a commettere rapine sul territorio di Messina e provincia e la riconducibilità del mezzo usato per la realizzazione del colpo a Giuseppe Riggio, proprietario di un motociclo compatibile per caratteristiche con quello ripreso dalle telecamere. Un quadro indiziario, dunque univoco, individualizzante e attendibile, che unito alla pericolosità dei soggetti coinvolti, tutti gravati da precedenti, porta all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.